Ed ora arriva lui, 33 film all'attivo, tanto cinema, fotoromanzi, ma soprattutto adesso tanta musica, Paolo Giusti! Bentornato! Quanti film, tantissimi eh! Non c'è quelli dei tasse qui, no? No, 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 non c'è qui Italia, puoi stare tranquillo, quindi guarda, un pubblico proprio gentilissimo. Allora, una carezza in un pugno? Facciamo quella? Ma sì, dai, facciamo quella. No, volevo dire, Bruno prima ha fatto un pezzo di Martin, che voglio fare anch'io, lo sto preparando. Difatti poi dopo farò Dels Amore. Bella! Abbiamo fatto, noi siamo amici nella vita, abbiamo fatto una trentina di film insieme, noi insieme, io per conto mio e lui per conto suo. Complimenti, hai fatto molto bene. E' bello questo scambio di complimenti tra colleghi, vuol dire che... Spero di farla meglio. Ma anche stima, ecco qua, comunque la freddura c'era, Paolo Giusti! Grazie. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano, quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso, non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso la carezza nascerà. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso, non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso la carezza nascerà. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Grazie per questo bel regalo musicale da parte di Paolo Giusti, molto molto gradito ed apprezzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.